Ciao a tutti ragazzi, sono Mara Rimera e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per commentare il capitolo 1022 di One Piece. Prima di iniziare devo dirvi che questo è uno dei capitoli migliori degli ultimi mesi, almeno secondo me, ma anche leggendo un po' dalle reazioni sul nostro gruppo Telegram. E appunto prima di iniziare voglio ricordarvi di seguirci su tutti i nostri social, soprattutto sul gruppo Telegram, dove carichiamo il link per rispoiler e per i capitoli appena ce li abbiamo sotto mano. Vi ricordo anche che questa sera saremmo in live sempre per parlare di questo capitolo. E niente, direi che possiamo iniziare col commento. Il capitolo inizia facendoci vedere una panoramica più o meno della guerra. Vediamo tra l'altro dall'alto il piano dello stage, in cui possiamo notare la torre che ha tagliato Zoro a inizio Nigashima. Vabbè, questo è un piccolo dettaglio. Comunque la cosa importante di questa scena è che ci viene ufficializzata la sconfitta di Tobiroppo. Infatti vediamo Black Maria, Usu e Sasaki a terra con gli occhi bianchi e con il sangue sulla faccia, più o meno a tutti e tre. E cosa importante, non ci vengono fatti vedere peggioane ulti, ma comunque viene detto che tutti e sei i Tobiroppo sono stati sconfitti. Quindi credo che loro due non li conti, semplicemente perché sono stati sconfitti, diciamo, in modo e in modalità diverse. Viene fatta vedere anche un'Igashima, che è vicinissima alla capitale dei fiori, e viene detto che mancano solo 15 minuti all'atterraggio. La scena dopo, che è quella un po' più sottotono, diciamo così, quella forse meno importante, riguarda Fukuro Kuju e Raizo. I due combattono, vediamo tra l'altro, Raizo usare una tecnica chiamata Nippo Clonjutsu, in cui, come potete immaginare, crea dei cloni. Ma Fukuro Kuju, provocandolo, dicendo che i foderi rossi sono ancora legati a un fantasma, riesce a individuare la sua parte vera, tra virgolette, lo colpisce. Detto questo, a parte un monologo di Raizo sui foderi rossi, del fatto che loro hanno il dovere di difendere questo fantasma, tra virgolette, di Oden, dice che loro stessi sono dei fantasmi, in più vediamo anche lì una panoramica di tutti i foderi rossi, tra cui Kinemon, Kiku e Ashura Doji, che sono a terra. Ashura Doji lo vediamo bene, perché l'ultima volta che l'abbiamo visto a terra c'era soltanto la sagoma, adesso è a terra, immerso, diciamo, in una pozza di sangue. Comunque anche lì non ci viene confermata la morte di nessuno dei tre, anche se io spero siano morti, so che è un po' così, però, diciamo, secondo me la morte dei foderi rossi, almeno della metà, renderebbe Onigashima più bella, secondo me. Comunque sia, passiamo a un'altra scena, vediamo finalmente come sta andando lo sconto tra Hawkins e Killer. Intanto vediamo che a terra ci sono delle bambole, le classiche bambole che crea il frutto di Hawkins, quindi vuol dire che Killer ha già dato dei colpi pesanti al membro della Worst Generation. A un certo punto vediamo Killer che infligge un altro colpo a Hawkins e Hawkins dice che non è importante quante bambole possiede, ma a chi sono legate. Di fatti vediamo una scena del secondo piano, tra l'altro il piano sotto dove sta avvenendo questo scontro ed è il piano in cui ci sono Lowe e Kid che stanno affrontando Big Mom e Kid, proprio in quel momento, si rende conto che qualcosa l'ha pugnalato. Hawkins, trasformatosi di nuovo nella sua forma umana, provoca Killer, rivelandogli che ha legato al suo capitano una delle sue bambole e ora è curioso di vedere come si comporterà e soprattutto non vede l'ora di intrattenersi con questa cosa. E niente, questa scena finisce qui. Qua molto interessante perché io non so effettivamente come Killer potrebbe giostrarsela. Potrebbe comunque da vero vice capitano, da vero migliore amico di Kid, sacrificarsi e decidere di non continuare la battaglia. Questo è uno dei... delle cose che potrei aspettarmi, però secondo me qualche stratagemma riuscirà a trovarlo. Adesso passiamo alla parte più interessante, secondo me, di questo capitolo. Torniamo al piano del palco. Vediamo in una splash page fantastica Kid e Queen che si stanno vendicando, diciamo, dei traditori e stanno cercando Zoro e Sanji. Intanto vediamo che King utilizza molte mosse riguardanti il fuoco, questo è importante per dopo. Comunque, i soldati, tra virgolette, normali, si chiedono perché non c'è Marco ad aiutarli. Infatti vediamo che Marco è mezzo svenuto per terra perché ha raggiunto il suo limite, cosa che a me ha fatto piacere in realtà. Perché vedere Marco o P no stop contro le due calamità effettivamente mi ha fatto dubitare delle loro forze e anche mi ha fatto pensare che Marco fosse troppo forte per questa battaglia, ma in realtà, come vediamo, anche lui ha raggiunto il suo limite. Intanto Sanji salta fuori per attaccare Queen per mettere a Chopper e a Miyagi di portare via Zoro che ancora non si è liberato delle bende. Difatti Chopper dice che avendo avuto così tanti danni è difficile che si rialzi subito. Comunque sia, vediamo per Ospero, che effettivamente non vedevamo da parecchio, che mira, sempre col suo arco e con le frecce, Sanji. Lo vuole uccidere perché ha rovinato il tea party di Big Mom e perché non ha spruato padding, ovviamente. Proprio in quel momento però, arriva finalmente Nekomamushi, che se vi ricordate capitoli fa aveva già detto che sarebbe andato a vendicare Pedro, che lo attacca di sorpresa e lo spinge via. Sembra spingerlo fuori addirittura dal castello. Tra l'altro, tra parentesi, fuori dal castello era rimasta Carrot insieme a Wanda, che erano state sconfitte proprio da Perospero. Quindi chissà, magari, Carrot aiuterà Nekomamushi a sconfiggere il figlio di Big Mom, anche se io spero sempre in una 1v1, però comunque credo che una scena in cui Carrot veda la sconfitta di Perospero ci possa stare. Comunque sia, King trova Zoro, che in quel momento è portato in braccio da dei samurai, e con una mossa chiamata Andon Divine Flame, cerca di attaccarlo. Ma in quel momento arriva Marco, che riesce a bloccare il colpo e difende Zoro. Qui Marco dice una cosa, tra l'altro, molto importante. Dice che ha sentito parlare di una razza che viveva sopra la Red Line, Queen, che era in grado di controllare il fuoco. E qua, infatti, chiama King, lo chiama King delle fiamme. Sul posto arriva anche Queen, che sta per attaccare Marco, e dice che i pirati di Barba Bianca dovrebbero semplicemente accettare la sconfitta. Marco torna nella sua forma umana, e dice che si arrende, che ormai il suo l'ha fatto, e dice, tra l'altro, questo momento veramente bellissimo, che è il momento che sul palco arrivino le star. In quel momento vediamo le bende di Zoro rompersi, e vediamo anche qui in una splash page, veramente da mani nei capelli, Zoro e Sanji, che attaccano King e Queen insieme. Come ultima cosa nel capitolo vediamo i due, che si dicono a vicenda, che se riusciranno a vincere questa battaglia, Luffy sarà più vicino al titolo di Re dei Pirati. E il capitolo finisce qui. Ragazzi, che capitolo! È veramente assurdo, secondo me, come ho detto, uno dei migliori degli ultimi mesi. Sia per i disegni, che veramente in questo caso ce ne sono alcuni fantastici, fantastici, ma anche per l'epicità creata da Marco, Zoro e Sanji. Una cosa molto importante di questo capitolo, che effettivamente, secondo me è passato un po' in sorrino, è che le sconfitte dei Tobiro possono essere confermate. Quindi, effettivamente, adesso abbiamo dei Mugiwara che non sanno dove andare esattamente. Questo però è un discorso che potremmo lasciare per un altro video. Altra cosa molto importante è la razza di King. Comunque, in realtà, c'eravamo arrivati un po' tutti che King appartenesse a una razza mai vista. Però, almeno, è stata confermata. Credo, tra l'altro, che adesso, che abbiamo visto King e Queen contro Zoro e Sanji, adesso Oda sposterà un po' lo sguardo, perché, secondo me, prima di sconfiggere le calamità, Oda vorrà farci vedere la sconfitta di, almeno Jack, che comunque, vabbè, ok, è una calamità, ma comunque in questo momento non sta affrontando i due Mugiwara. La sconfitta di Perospero. Poi, secondo me, ci farà vedere le due calamità. Poi spero Big Mom. E, infine, rimarrà solo Kaido. Io, personalmente, non vedo l'ora di vedere lo scontro tra Inuarashi e Jack, perché Inuarashi, come sapete, è il mio visone preferito ed effettivamente di quello scontro non abbiamo visto quasi niente, abbiamo visto soltanto, veramente, due vignette. E spero, tra l'altro, che le vedremo nei prossimi capitoli. Un'altra informazione, a quanto pare, fino al capitolo 1024 1024, non ci saranno pause, quindi avremo due capitoli di fila questa volta. Senza contare, ovviamente, questo. Quindi, in realtà, ne avremo tre. Detto questo, io vi ricordo che questa sera alle ore 21 saremo i live su Twitch a parlare di nuovo di questo capitolo. Vi ricordo che il lunedì ci sarà un video riguardante il capitolo, mercoledì un'analisi, e venerdì torniamo col capitolo 1023. Grazie per aver visto questo video, io vi saluto, vi ricordo di nuovo la live e niente, ciao a tutti.